11 a mano a mano che la massa dei pellegrini aumentava si faceva sempre più difficile da controllare e presto fui costretta a viaggiare in carrozza c'erano giorni in cui mal mi accompagnava ma di solito preferiva cavalcare scortando il veicolo insieme a tolia e tamar per quanto desiderassi la sua compagnia sapevo che era meglio così stare chiuso in un piccolo portagioie laccato sembrava metterlo di cattivo umore nicolai si univa a me solo all'ingresso o all'uscita da ogni villaggio affinché ci vedessero arrivare e partire insieme parlava continuamente aveva sempre in mente qualche nuovo progetto da realizzare una macchina per pavimentare le strade un nuovo sistema di irrigazione una barca che remasse da sola tracciava schizzi su ogni pezzo di carta che riusciva a trovare e ogni giorno sembrava avere una nuova idea per migliorare la versione successiva della colibri per quanto mi rendesse nervosa era anche molto interessato al terzo amplificatore all'oscuro neanche lui ricordava l'arco di pietra nell'illustrazione e per quanto ci sforzassimo di studiare la pagina santilia non ci rivelava i suoi segreti questo non impediva nicolai di fare mille congetture sui possibili posti da cui partire nella nostra ricerca dell'uccello di fuoco o di interrogarmi sul nuovo potere dell'oscuro stiamo per andare in guerra insieme mi diceva nel caso tu lo abbia dimenticato lo scuro non mi vuole particolarmente bene vorrei approfittare di ogni singolo vantaggio che riusciamo ad assicurarci avevo così poco da dire io stessa malapena capivo quello che faceva all'oscuro i griscia possono solo usare e modificare la materia già esistente la vera creazione è un tipo di potere diverso bagra la chiamava la creazione al cuore del mondo e tu pensi che sia questo l'obiettivo dell'oscuro forse non lo so tutti abbiamo dei limiti e quando cerchiamo di forzarli ci stanchiamo ma alla lunga usare il nostro potere ci rafforza quando l'oscuro evoca in ricevoia è diverso penso che gli costi descrissi la stanchezza evidente sul suo viso il suo affaticamento il potere non lo sta alimentando si sta alimentando di lui beh questa è una spiegazione nicolai tamburellava con le dita sulla gamba con rapidità meccanica la mente che già macinava spiegazione di cosa del motivo per cui siamo ancora vivi per cui mio padre ancora siede sul trono se l'oscuro potesse convocare un esercito d'ombra senza problemi avrebbe già marciato contro di noi questo è buono disse con decisione ci fa guadagnare tempo la domanda era quanto tempo ripensai al desiderio che avevo provato guardando le stelle a bordo della voic volni la fame di potere aveva corrotto l'oscuro per quanto ne sapevo poteva benissimo aver corrotto anche morozova unire gli amplificatori poteva scatenare sofferenze che il mondo non aveva mai visto mi passai le mani sulle braccia cercando di liberarmi dal gelo che mi era piombato addosso non potevo esprimere questi dubbi a nicolai e mal era già abbastanza ostile alla direzione che avevamo preso sai chi abbiamo di fronte dissi il tempo potrebbe non bastare o salta è ben fortificata è vicina alla base di poliznaia e cosa più importante è lontana sia dal confine settentrionale sia da quello meridionale questo ci aiuta il raggio d'azione dell'oscuro è limitato quando abbiamo bombardato la sua nave non è riuscito a mandarci dietro in ricevoia questo significa che deve entrare a rafca con i suoi mostri le montagne orientali sono invalicabili e non può attraversare la faglia senza di te per cui dovrà arrivare da fierda o da shuhan in entrambi i casi avremmo abbondante preavviso e il re e la regina resteranno se mio padre lasciasse la capitale equivarrebbe a consegnare subito al paese all'oscuro inoltre non so se le forze per viaggiare pensai alla cafta rossa di genia non si è ripreso hanno tenuto il peggio al riparo dai pettegolezzi ma no e dubito che succederà incrociò le braccia e inclinò la testa da un lato la tua amica è straordinaria come avvelenatrice non è mia amica dissi anche se le parole suonarono infantili alle mie orecchie è come un tradimento incolpavo genia di un sacco di cose ma non di quello che aveva fatto al re nicolai sembrava avere spie dappertutto mi domandai se sapeva che razza di uomo fosse davvero suo padre e dubito che abbia usato il veleno gli ha fatto qualcosa nessuno dei suoi dottori trova la cura e mia madre non permetterà a nessun guaritore di avvicinarsi a lui dopo un momento aggiunse è stata una mossa molto intelligente sollevai le sopracciglia di scatto cercare di uccidere tuo padre l'oscuro avrebbe potuto assassinare mio padre abbastanza facilmente ma avrebbe rischiato di scatenare una rivolta dei contadini e del primo esercito con il re vivo e tenuto in isolamento nessuno ha capito cosa stava accadendo esattamente l'apparat è rimasto a palazzo a recitare la parte del consulente fidato e a impartire ordini basili era chissà dove a fare incetta di cavalli e prostitute si fermò guardò fuori dal finestrino passò un dito lungo il bordo dorato io ero per mare la notizia non mi è arrivata che settimane dopo quando era già tutto finito aspettai non sapendo se fosse opportuno parlare lui aveva gli occhi fissi sul paesaggio che scorreva ma la sua espressione era distante quando è uscita la notizia del massacro di novo kribirsk e della sparizione dello scuro si è scatenato l'inferno un gruppo di ministri e di soldati della guardia è entrato a forza dentro il gran palazzo gli ha chiesto di vedere il re sai che cosa ha trovato mia madre era nicchiata nel suo saluttino che si stringeva il petto quel piccolo cane asmatico e il re di radca alessandro terzo solo nel suo letto in mezzo ai suoi escrementi che respirava a fatica e io ho lasciato che accadesse questo e non potevi sapere che cosa stava pianificando lo scuro nicolai nessuno lo sapeva lui sembrò non sentirmi i griscia e gli pricnichi che avevano occupato il palazzo per conto dello scuro sono stati catturati nella città bassa mentre cercavano di fuggire sono stati giustiziati cercai di trattenere un brivido e l'apparat il prete era stato complice dello scuro e forse collaborava ancora con lui ma aveva cercato di avvicinarmi prima del colpo di stato e io avevo sempre pensato che forse il suo gioco era ancora più nascosto è scappato nessuno sa come la sua voce era dura ma ne risponderà quando sarà il momento di nuovo percepì la spietatezza che si nascondeva sotto l'atteggiamento raffinato era quello il vero nicolai lenzov o era solo un altro travestimento hai lasciato andare genia dissi era una pedina eri tu il bottino non dovevo perdere di vista l'obiettivo poi sorrise e il suo amore cupo svanì come se non ci fosse mai stato inoltre aggiunse strizzandomi l'occhio era troppo carina per gli squali viaggiare in carrozza mi rendeva irrequieta il ritmo che nicolai stava imponendo mi frustrava ero impaziente di arrivare al piccolo palazzo tuttavia dava a lui la possibilità di aiutarmi a prepararmi per il nostro arrivo ad ossa alta nicolai aveva un notevole interesse nel mio successo come capo del secondo esercito e sembrava avere sempre qualche nuova pillola di saggezza da impartirmi nero oberata ma non mi potevo permettere di ignorare i suoi consigli e cominciavo a sentirmi come se fossi di nuovo nella biblioteca del piccolo palazzo a imbottirmi la testa di teoria griscia meno parli più peso avranno le tue parole non discutere non degnarti mai di smentire accogli gli insulti con una risata tu non hai riso davanti al capitano fierdiano osservai quello non era un insulto era una sfida impara a comprendere la differenza la debolezza è una maschera indossala quando ti serve che ti vedano umana ma mai quando ti senti tale non desiderare i mattoni se puoi costruire con la pietra usa qualunque cosa o persona ti trovi davanti essere un capo significa che c'è sempre qualcuno che ti sta osservando portali a eseguire i piccoli ordini ed eseguiranno quelli importanti va bene non tenere conto delle aspettative ma non deluderli mai e come ti aspetti che mi ricordi tutto questo chiesi esasperata non pensarci troppo metti in pratica e basta è facile da dire per te sei stato preparato a questo momento dal giorno in cui sei nato io sono stato preparato a giocare a tennis sull'erba e a ubriacarmi di champagne alle feste il resto è arrivato con la pratica io non ho tempo per la pratica andrai bene devi solo calmarti buttai fuori un verso di frustrazione avevo una tale voglia di strangolarlo che mi prudevano le dita ah è il modo più facile per far infuriare una persona e dirle di calmarsi non sapevo se ridere o tirargli una scarpata in faccia fuori della carrozza il comportamento di nicolai stava diventando sempre più snervante si guardava bene dal rinnovare la sua proposta di matrimonio ma era chiaro che voleva indurre il popolo a credere che ci fosse qualcosa tra di noi a ogni sosta si faceva più ardito avvicinandosi troppo baciandomi la mano infilandomi dietro le orecchie e i capelli scompigliati dalla brezza a tashta salutò con la mano l'enorme folla di pellegrini e di abitanti che si era radunata accanto alla statua del fondatore del villaggio poi mentre mi aiutava a salire in carrozza fece scivolare un braccio intorno alla mia vita per favore non tirarmi un pugno sussurro poi mi strinse al suo petto e premette le labbra sulle mie la folla esplose in acclamazioni selvagge le loro voci ci investirono come un ruggito esultante senza darmi il tempo di reagire nicolai mi spinse nel buio della carrozza e si infilò dentro dopo di me chiuse lo sportello ma io continuai a sentire le acclamazioni della gente fuori in mezzo alle grida nicolai e santa alina risuonava un nuovo slogan sol coroleva regina del sole riuscì appena intravedere mal attraverso il finestrino era a cavallo e teneva a bada la folla affinché non invadesse la strada ma era evidente dall'espressione burrascosa che aveva visto tutto mi voltai verso nicolai e gli diedi un forte calcio nello stinco lui lanciò un urlo ma non mi sentivo per niente soddisfatta che ne diedi un altro stai meglio mi chiese poi la prossima volta che provi a fare una cosa del genere non ti prendo a calci dissi rabbiosa ti taglio a metà lui si spazzolò un pelucco dai pantaloni non sono sicuro che sarebbe saggio temo che la gente tenda a disapprovare il regicidio non sei ancora re so bacca ribattei seccamente per cui non tentarmi non capisco perché sei arrabbiata la folla ne è stata entusiasta io no lui sollevò un sopracciglio ma non ti ha neanche fatto schifo gli diedi un altro calcio questa volta la sua mano scivolò fuori di scatto e mi afferrò la caviglia se fosse stato inverno avrei avuto gli stivali ma avevo le scarpe stive e le sue dita si chiusero intorno alla gamba nuda mi sentì avvampare promettimi di non darmi più calci e io ti prometto di non baciarti più ti ho dato i calci solo perché mi hai baciato cercai di ritirare la gamba ma lui tenne salda la presa prometti d'accordo risposi stizzita prometto adesso abbiamo un accordo lasciò cadere il mio piede io lo nascosi sotto la chefta sperando che non notasse il mio stupido rossore grandioso dissi ora esci è la mia carrozza l'accordo riguarda solo i calci non proibisce sberle pugni morsi né mi impedisce di tagliarti a metà lui sorrise hai paura che orezzev si domandi fino a che punto ci siamo spinti era esattamente quello che temevo mi preoccupa che se sarò costretta a passare un altro minuto con te potrei vomitare sulla mia chefta è una recita alina più forte la nostra alleanza meglio sarà per entrambi mi dispiace se questo da sui nervi a mal ma è necessario quel bacio non era necessario stavo improvvisando mi sono lasciato prendere la mano tu non improvvisi mai tutto quello che fai è calcolato cambi personalità come gli altri cambiano il cappello e sai cosa è disturbante non sei mai semplicemente te stesso sono un principe alina non posso permettermi di essere me stesso buttai fuori un respiro infastidito lui rimase in silenzio per un momento poi disse io pensi davvero che sono disturbante era la prima volta che lasciava trasparire una punta di insicurezza nonostante quello che aveva fatto un po mi dispiaceva sinceramente per lui a volte a misi lui si passò una mano sulla nuca sembrava decisamente a disagio poi sospirò e scrollò le spalle sono il figlio minore molto probabilmente bastardo e manco da corte quasi sette anni farò tutto quello che è in mio potere per aumentare le mie possibilità di ottenere il trono e se questo significa corteggiare un'intera nazione o te lo farò sgranai gli occhi non avevo sentito praticamente niente dopo la parola bastardo geni aveva accennato alle voci che circolavano sulla nascita di nicolai ma mi sconcertava che lui lo riconoscesse lui rise non riuscirai mai a sopravvivere a corte se non impari a nascondere un po meglio i tuoi pensieri hai l'aria di una che si è appena seduta su una scodella di zuppa fredda chiudi la bocca serrai le labbra di scatto e cercai di dominare il mio viso e di assumere un'espressione gradevole nicolai rise ancora più forte ora hai l'aria di una che ha bevuto troppo vino ci rinunciai e mi accasciai contro il sedile come puoi scherzare su una cosa del genere ho sentito le voci fin da quando ero bambino non è una cosa che vorrei sentire ripetere fuori da questa carrozza e negherò se lo farai ma non mi importa affatto se ho il sangue dei lanzoff o meno anzi considerate tutte le unioni tra consanguinei nella famiglia reale essere bastardo è probabilmente un punto a mio favore scossi la testa era una persona indecifrabile era difficile capire che cosa pensasse sul serio quando si trattava di nicolai perché la corona è tanto importante per te chiesi perché affrontare tutto questo è così complicato credere che possa davvero importarmi delle sorti di questo paese onestamente sì lui si studiò le punte degli stivali lucidati mi chiesi come faceva a tenerli sempre così illustri immagino mi piace aggiustare le cose disse è quello che ho sempre fatto non era un granché come risposta ma in qualche modo suonava sincera pensi davvero che tuo fratello si farà da parte lo spero sa che il primo esercito seguirà me e non credo che abbia il fegato di affrontare una guerra civile inoltre vasili è ereditato l'avversione di mio padre al lavoro duro non appena si renderà conto di cosa comporta governare un paese scapperà dalla capitale a gambe levate e se non dovesse rinunciare così facilmente è solo questione di trovare il giusto incentivo poveri principi tutti gli uomini possono essere comprati altra perla di saggezza dalla bocca di nicolai lanzoff guardai fuori dal finestrino e vidi mal dritto sulla sella che teneva il passo con la carrozza non tutti mormorai nicolai seguì il mio sguardo si alina persino il tuo fedele paladino al suo prezzo si voltò verso di me gli occhi color nocciola pensierosi e sospetto di averlo davanti in questo momento mi sentì a disagio sei così sicuro di tutto dissi imbronciata forse deciderò che lo voglio io il trono e ti soffocherò nel sonno nicolai si limitò a sorridere finalmente cominci a pensare come un politico alla fine nicolai cedette uscì dalla carrozza ma fu ore prima che ci fermassimo per la notte non mi fu necessario andare a cercare mal quando la porta della carrozza si aprì me lo trovai davanti che mi offriva la mano per aiutarmi a scendere lo spiazzo era affollato di pellegrini e di altri viaggiatori e tutti allungavano il collo per vedere meglio l'evoca luce ma io non sapevo quando avrei avuto un'altra occasione per parlare con lui sei arrabbiato sussurrai mentre mi accompagnava lungo il sentiero acciottolato vedevo nicolai dall'altra estremità del piazzale stava già chiacchierando con un gruppo di dignitari locali con te no ma dovrò fare un bel discorsetto a nicolai quando non sarà circondato da guardie fermate se ti fa sentire meglio l'ho preso a calci mal rise davvero due volte aiuta in effetti sì stasera a cena gli pesterò un piede era una cosa che decisamente esulava dalla proibizione sui calci per cui niente palpite il cuore nei rapimenti estatici neanche tra le braccia di un principe reale scherzava ma percepì l'insicurezza sotto le sue parole a quanto pare sono immune risposi e per fortuna so che effetto fa un vero bacio lo lasciai in mezzo al piazzale avrei potuto prenderci l'abitudine a far arrossire mal la notte prima di entrare a ossa alta ci fermammo nella dacia di un esponente della piccola nobiltà che viveva a pochi chilometri dalle mura della città la sua tenuta mi ricordava un po caramzin con i grandi cancelli di ferro il lungo sentiero dritto che portava a una graziosa casa con due ampie ali di mattoni chiari a quanto pareva il conte minkoff era noto per le sue coltivazioni di alberi da frutta in miniatura e lungo i corridoi della dacia erano allineati ingegnosi piccoli esemplari di arte topiaria che riempivano le stanze di un dolce profumo di pesche e susine a me fu assegnata un elegante camera da letto al secondo piano tamar occupò la stanza adiacente e tolia e mal furono alloggiati in fondo al corridoio sul letto mi aspettava una grande scatola dentro la quale trovai la chefta che aveva ordinato la settimana precedente dopo aver infine ceduto nicolai aveva girato l'ordine al piccolo palazzo e riconobbi il lavoro dei fabbricator nella seta blu in tessuta di filo dorato mi aspettavo di sentirla pesante in mano ma grazie all'abilità dei materialchi la stoffa era leggerissima me la infilai da sopra la testa scintillava con riflessi cangianti come luce filtrata dall'acqua i fermagli erano a forma di piccoli soli dorati era bellissima è un po' appariscente nicolai avrebbe approvato la padrona di casa mandò una damigella ad aggiustarmi i capelli lei mi fece sedere al tavolo da tue letta e facendo schioccare la lingua si impegnò a sciogliere i miei nodi e legarmi le ciocche in un morbido scignon aveva un tocco molto più gentile rispetto a genia ma i risultati non furono neanche minimamente altrettanto spettacolari allontanai quel ricordo dalla mia mente non mi piaceva pensare a genia a cosa poteva esserle successo dopo che avevamo abbandonato la baleniera o a come mi sarebbe sembrato solitario il piccolo palazzo senza di lei ringraziai la damigella e prima di lasciare la stanza presi il borsellino di velluto nero che era arrivato nella scatola insieme alla kefta me lo infilai in tasca controllai che il bracciale fosse ben nascosto dalla manica e andai di sotto a cena la conversazione si incentrò sulle ultime manovre dello scuro e sui suoi possibili spostamenti e sulle ultime notizie da ossa alta la città era stata invasa dai profughi i nuovi arrivati venivano respinti alle porte e girava voce che fossero scoppiate rivolte per il cibo nella città bassa sembrava un posto lontano anni luce da quel palazzo scintillante il conte e sua moglie una donna pienotta con i capelli ricci che andavano ingrigendo e una scollatura allarmante avevano imbandito la tavola generosamente mangiamo zuppa fredda da tazze ingioiellate a forma di zucca agnello arrosto ricoperto di marmellata di uvetta funghi al forno con la panna e una pietanza che mi limitai a pilucare che ha presi dopo essere cuculo al brandy ogni piatto e ogni bicchiere avevano il bordo d'argento e portavano lo stemma dei mincov la cosa più impressionante era il centrotavola che occupava tutta la lunghezza del tavolo una foresta vivente in miniatura riprodotta nei minimi dettagli con tanto di boschetto di minuscoli pini una bignomi arampicante selvatica con boccioli non più grandi di un'unghia e una piccola capanna in cui era nascosta la saliera io sedevo tra nicolai e il colonnello raevski e ascoltavo i nobili ospiti ridere chiacchierare e dedicare un brindisi dietro l'altro al ritorno del giovane principe e alla salute dell'evoca luce avevo chiesto a mal di unirsi a noi ma lui aveva rifiutato scegliendo invece di pattugliare il giardino insieme a tamare e tolia per quanto mi sforzassi di seguire la conversazione continuavo a lanciare occhiate verso la terrazza sperando di vederlo nicolai evidentemente se ne accorse perché mi sussurrò non è necessario che preste attenzione ma è necessario che tu dia l'impressione di prestarla feci del mio meglio anche se non avevo molto da dire pur vestita in una chefta luccicante seduta accanto a un principe restavo una ragazza di campagna proveniente da un villaggio senza nomi non centravo niente con quelle persone in realtà neanche lo desideravo tuttavia ringraziai con una preghiera silenziosa anacunia per aver insegnato ai suoi orfani come stare seduti a tavola e quale forchetta usare per mangiare le lumache dopo cena fummo portati tutti in un salotto dove il conte e la contessa cantarono un duetto accompagnati dall'arpa della figlia i dessert furono apparecchiati sul tavolino di servizio mousse di miele composta di noci e melone e una torre di pasticcini ricoperti da nuvole di zucchero filato che non sembrava pensata per essere mangiata quanto per essere ammirata seguirono altro vino e altri pettegolezzi mi venne chiesto di evocare la luce e io proiettai un caldo bagliore sul soffitto a cassettoni che fu accolto da un applauso entusiasta quando alcuni ospiti si sedettero per giocare a carte addussi come scusa un mal di testa e silenziosamente mi diedi alla fuga nicolai mi catturò sulla porta della terrazza dovresti fermarti disse è un buon esercizio per abituarsi alla monotonia della corte i santi hanno bisogno di riposo e in mente di dormire sotto un cespuglio di rose chiese lui gettando un'occhiata verso il giardino sono stata una brava orsa danzante nicolai ho eseguito tutti i miei numeri e ora è tempo che dia la buonanotte nicolai sospirò forse è solo che vorrei potermene andare con te la contessa ha passato la cena a toccarmi il ginocchio sotto il tavolo e odio giocare a carte avevo capito che fossi un politico consumato te l'ho detto che ho problemi a stare fermo allora ti basta chiedere alla contessa di ballare dissi con un sorriso e scivolai fuori nell'aria notturna mentre scendevo i gradini della terrazza mi guardai alle spalle nicolai ancora indugiava sulla soglia indossava l'uniforme militare con una fascia azzurro di traverso sul petto le luci del salotto si riflettevano sulle sue medaglie e disegnavano un alone dorato intorno alla sua chiama bionda si era calato nel ruolo del principe impeccabile quella sera ma a vederlo così sembrava un bambino solitario che non voleva tornare alla festa da solo mi voltai e scesi la scalinata che con una curva portava al giardino di sotto non mi ci volle molto per trovare mal era appoggiato al tronco di una grossa quercia e osservava il prato ben curato c'è nessuno nascosto nel buio chiesi solo io mi appoggiai al tronco accanto a lui avresti dovuto unirti a noi a cena ma fece una mezza risata no grazie da quello che ho potuto vedere tu avevi un'aria decisamente afflitta e nicolai non sembrava molto più felice di te inoltre aggiunse guardando la mia chefta che cosa avrei potuto mettermi la detesti è stupenda è perfetta per il tuo corredo prima che potessi alzare gli occhi al cielo mi prese di scatto la mano non intendevo disse sei bella è da quando ti ho vista stasera che volevo dirtelo arrossì grazie usare il mio potere tutti i giorni aiuta e ribella anche a cofton con il polline di yurda sulla fronte mi tira imbarazzata una ciocca di capelli questo posto mi ricorda caramzin dissi un po è molto più pacchiano qual è esattamente il senso di questa frutta minuscola è per gente con le mani minuscole li fa stare meglio con se stessi lui rise una risata vera io mi misi la mano in tasca e tasta in cerca del porsellino di velluto nero ho una cosa per te disse che cosa stesi il pugno chiuso indovina era un gioco che facevamo da bambini è evidentemente un maglione scossi la testa un pony da esibizione no lui mi prese la mano la girò e mi aprì con delicatezza le dita aspettai la sua reazione un angolo della sua bocca si tirò mentre raccoglieva il sole dorato dal mio palmo il contatto leggero delle sue dita ruvide sulla pelle mi mandò un brivido lungo la schiena per il capitano della tua guardia personale mi schiarì la voce nervosamente io non volevo uniformi non volevo niente che ricordasse gli oprischniki dello scuro per qualche momento rimanemmo in silenzio mentre mai guardava al sole poi me lo restituì ci rimasi male ma cercai di nascondere la delusione me la metti feci un sospiro di sollievo presi la spilla tra le dita e la infilai attraverso le piega del lato sinistro della sua camicia mi ci vollero un paio di tentativi per agganciarla quando finì e feci un passo indietro lui mi prese la mano e la premette sopra il sole dorato sopra il suo cuore tutto qui mi chiese eravamo vicini ora soli nel buio tiepido del giardino era il primo momento che avevamo per noi stessi dopo settimane tutto ripetei la mia voce era poco più che un sospiro mi sembra mi fossero stati promessi un mantello e un cappello elegante conosco un modo per farmi perdonare stai flertando ti sto proponendo uno scambio bene disse lui incasserò subito il primo pagamento lo disse in tono leggero ma quando le sue labbra incontrarono le mie non c'era niente di scherzoso nel suo bacio sapeva di calore delle pere mature del giardino del duca percepì il desiderio nella piega della sua bocca un'energia insolita che mi accese dentro un'esplosione di scintille mi sollevai sulla punta dei piedi gli chiusi le braccia intorno al collo sentendo l'intero mio corpo sciogliersi contro il suo lui aveva la forza di un soldato la sentivo nei muscoli tonici delle sue braccia nella pressione delle dita dietro la mia schiena quando strinse nel pugno la seta del mio vestito tirandomi a sé c'era un che di brutale quasi disperato nel modo in cui mi stringeva come se non riuscisse ad avermi abbastanza vicina mi girava la testa i miei pensieri si erano fatti lenti e liquidi ma da qualche parte sentì dei passi un momento dopo vidi tamar avvicinarsi di corsa abbiamo compagnia disse ma si staccò da me e imbracciò il fucile con un movimento rapido chi è c'è un gruppo di persone al cancello che chiede di entrare vogliono vedere le bocaluce pellegrini chiesi cercando di rimettermi in funzione il cervello scombussolato dal bacio tamar scossa la testa dicono di essere griscia qui mal mi mise una mano sul braccio alina aspetta dentro almeno finché non capiamo di cosa si tratta esitai una parte di me era indignata che mi si chiedesse di scappare a nascondermi ma non volevo neanche comportarmi da stupida un grido si levò da qualche parte vicino al cancello no dissi svincolandomi dalla presa di mal se sono davvero griscia potreste avere bisogno di me né tamar né mal sembrarono contenti ma presero posizione ai miei fianchi e ci abbiamo lungo il sentiero di ghiaia una folla si era radunata davanti al cancello di ferro della dacia tolia era facile da individuare perché svettava soprattutto gli altri nicolai era davanti circondato da soldati con le armi spianate e valletti della famiglia del conte armati dall'altro lato dell'inferriata era raccolto un piccolo gruppo di persone ma non riuscivo a vedere più di questo qualcuno diede una scossa rabbiosa alle sbarre e sentì levarsi voci alterate fatemi avvicinare dissi tamar lanciò a mal un'occhiata preoccupata io sollevai il mento se volevano essere le mie guardie dovevano imparare a eseguire i miei ordini subito devo vedere cosa sta succedendo prima che la situazione sfugga di mano tamar fece un segno a tolia il gigante venne a mettersi davanti a noi facendoci strada facilmente in mezzo alla folla fino al cancello io ero sempre stata piccola ma in quel momento schiacciata tra male i gemelli spintonati su ogni lato da soldati nervosi mi trovai a respirare a fatica repressi il panico allungando lo sguardo oltre i corpi e le schiere fino al punto in cui vidi nicolai discutere con qualcuno dall'altra parte se avessimo voluto parlare con il lacchè del re ora saremmo davanti alle porte del gran palazzo stava dicendo una voce impaziente siamo venuti per l'evoca luce mostra rispetto spargi sangue abbaiò un soldato che non riconobbi stai parlando con un principe di rafka e ufficiale del primo esercito non si metteva bene avanzai fino a oltrepassare l'assembramento e mi fermai quando vidi il corpo ralchi che stava dietro le sbarre di ferro fedior la sua lunga faccia si aprì in un sorriso e lui fece un profondo inchino alina starkoff disse potevo solo sperare che le voci fossero vere studiai fedior con circospezione era circondato da un gruppo di griscia con le chefta coperte di polvere per lo più del rosso dei corporalchi qualcuna del blu degli etere alchi e giusto una manciata di viola dei materialchi lo conosci chiese nicolai sì mi ha salvato la vita fedior una volta si era messo tra me e un'orda di assassini ferdiani è stato un grande onore per me nicolai non si mostrò particolarmente colpito ci si può affidare di lui è un disertore disse il soldato che gli stava accanto si sentirono brontolì su entrambi i lati del cancello nicolai indicò tolia fai spostare tutti indietro e assicurati che nessuno di quei valletti si mette in testa di cominciare a sparare temo che siano a corto di emozioni qua in mezzo agli alberi da frutto tornò a voltarsi verso il cancello fedior dunque dacci un minuto mi tirò a sé e mi chiese piano beh ci si può fidare di lui non lo so l'ultima volta che avevo visto fedior eravamo a una festa al gran palazzo poche ore prima che scoprissi quali erano i piani dell'oscuro e fuggissi sul retro di un carro mi sforzai di ricordare che cosa mi aveva detto allora credo fosse distanza sul confine meridionale era uno spacca cuore di alto grado ma non uno dei favoriti dell'oscuro nevski ha ragione disse lui indicando con la testa il soldato arrabbiato griscia o no la loro lealtà avrebbe dovuto essere innanzitutto verso il re hanno abbandonato le loro postazioni tecnicamente sono disertori questo non fa di loro dei traditori la vera domanda è se sono spie e allora che cosa facciamo potremmo arrestarli farli interrogare io mi tormentavo la manica riflettendo parlami disse nicolai non volevamo che i griscia tornassero chiesi se arrestiamo tutti quelli che tornano non mi resterà un grande esercito da comandare ricordati che mangerai con loro lavorerai con loro dormirei sotto lo stesso tetto e potrebbero essere tutti al servizio dell'oscuro mi voltai a guardare fedior che aspettava pazientemente il cancello cosa ne pensi tu credo che questi griscia siano le più nemmeno affidabili di quelli che ci aspettano al piccolo palazzo questo non è incoraggiante una volta che saremo dentro le mura del palazzo tutte le comunicazioni saranno strettamente monitorate è difficile immaginare come l'oscuro potrebbe usare le sue spie se non può neanche comunicare con loro resistetti all'impulso di toccarmi la cicatrice che si stava formando sulla mia spalla sospirai d'accordo dissi apri il cancello parlerò con fedior e solo con lui il resto può accamparsi fuori dalla dacia per stanotte e unirsi a noi domani quando partiremo però salta sei sicura non credo che sarò mai più sicura di qualcosa ma il mio esercito ha bisogno di soldati molto bene disse nicolai con un brave cenno di assenso solo stai attenta a chi dai la tua fiducia io gli lanciai un'occhiata significativa ci starò attenta grazie di là Grazie a tutti